I biancorossi di Pasquale Luisso in settimana hanno preparato la sfida contro la Vispesaro, ma le attenzioni sono concentrate anche al recupero della gara dell'ultima di andata con il Matelica, che lo scorso 22 dicembre non si disputò per ghiaccio. Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale di Lettanti ha stabilito il recupero per mercoledì prossimo 29 gennaio, ma le due società sono pronte a chiedere il posticipo a sabato 1 febbraio, approfittando della sosta del campionato per il torneo di Viareggio. Abruzzesi e Marchigiani inoltreranno la richiesta probabilmente lunedì. Non verrà invece presentato nulla, facendo rimanere confermata la data del 29 gennaio, solo se Sulmone e Matelica domani non dovessero scendere in campo per neve, ma questo rischio, stando alle previsioni meteo, non dovrebbe esserci. Appare dunque quasi certo il cambio del recupero al 1 febbraio. Sono d'accordo a entrambe le società per non giocare nuovamente dopo tre giorni. Per la trasferta di Pesaro nel Sulmona sono a disposizione due nuovi giocatori. Nelle ultime ore sono stati tesserati il centrocampista pugliese Luca De Matteis, classe 94 ex Nardò e Gallipoli, e l'esterno offensivo Alessandro Piccirilli, classe 95 proveniente dall'Astrea, originario di Avezzano. La squadra di Luiso proverà di interrompere la serie delle due sconfitte consecutive, con l'intento di portare a casa almeno un punto. Dopo il rinnovo totale del parco giocatori, il Sulmona dovrà sempre dare il massimo, anche a queste condizioni. E la mentalità che sta cercando di imprimere il Toro di Sora, i giocatori nelle ultime due partite, nonostante le sconfitte, hanno dimostrato di seguire le indicazioni del tecnico. Il gioco non dispiace, ma ora servono i punti. Quella costruita dopo il terremoto degli svincoli è una squadra che, se fosse partita dall'inizio con tanto di preparazione e con almeno due innesti di esperienza, avrebbe potuto recitare un ruolo discreto. In attesa di calibrare bene tutto, un inizio in salita era stato preventivato. Questa squadra uscirà alla distanza e l'auspicio di tutti per conservare la categoria e programmare, diversamente da quest'anno, la nuova stagione. Per la sfida di domani, nella Vispisaro del tecnico Giuseppe Maggi, saranno ancora assenti il centravanti Chicco per l'infortunio ed il centrocampista Bianchi, che dovrà scontare il secondo turno di squalifica. I marchigiani dispongono di validi elementi, come il fantasista Giacomo Ridolfi, che all'andata all'Angelini di Chieti disputò una gran partita, e l'attaccante Rocco Costantino, ex Amiternina e San Nicolò. Reduce dalla roboante vittoria scoppito, la Vispisaro, al quarto posto in classifica e in piena zona play-off, vorrà dare conferma alla serie positiva dei risultati. Nella difficile trasferta marchigiana, il tecnico dei biancorossi obidiani, Luiso, dovrà rinunciare ancora agli infortunati Sorrentino e Paolillo, ma potrà contare sui rientri dalle squalifiche del difensore Fraghì e del centrocampista Lorenzetti.